In tempi di crisi non si butta via nulla e allora ecco che anche i cibi scaduti rimangono in vendita nei supermercati a un prezzo ridotto. È la nuova iniziativa adottata in Grecia per favorire chi non può acquistare i prodotti a prezzo pieno. Il Ministero dello Sviluppo di Atene ha deciso di permettere la vendita oltre la scadenza dei prodotti non deperibili, come olio, verdure in scatola o pasta, insomma quelli per cui è sì indicato una data di sicurezza ma che non diventano immediatamente un pericolo per i consumatori. Il prodotto acquista così fino a un massimo di tre mesi di vita. Il prezzo è decisamente scontato anche a un terzo del valore originario, proprio per agevolare chi non può permettersi più di fare la spesa a prezzo pieno. La nuova misura di austerità, entrata in vigore a fine agosto, è stata presa in pieno accordo con l'Unione Europea per aiutare le famiglie greche strangolate dalla crisi finanziaria.